Tutte e due Soprattutto lui Vabbè dai, non pensare, è una cosa naturale C'è tipo una coreografia Però bello, bello, bello Ma è che lui ha molto tempo che non... Ah si? Quanto tempo? Siamo noi, siamo io dei Nicolino, che è? Sì, erano stati tipo 4, 5 anni Sette anni Sette anni Sette, povero, che le donne sono meglio di noi Oh papi Tiè Ma fumi? Questa è la prima da 7 anni E come ti senti? Ma è tipo come se... Spurgato